L'obiettivo è quello di abbattere i muri della discriminazione, oltre che demolire le barriere architettoniche, e si è partiti proprio dai giovani del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, che da oggi potranno freggiarsi del titolo di sentinelle della civiltà. Il progetto, promosso dall'ufficio di Sabili del Comune di Montesilvano e dal suo responsabile Claudio Ferrante, nel duplice ruolo anche di presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, ha coinvolto questa mattina 53 alunni delle classi terza e quarta del liceo pescarese. Il là al progetto è stato dato ad ottobre, quando le due classi hanno avuto modo di riflettere sul concetto di felicità da un punto di vista inedito ed inatteso, per poi lasciarsi ispirare dall'esperienza condivisa con i collaboratori dell'Associazione. Nella giornata di oggi, i giovani partendo dalla sede del liceo di Via Vespucci si sono messi invece alla prova con l'esperienza empatica che li vuole direttamente su strada. Alla guida di carrozzine, provando direttamente sulla loro pelle le difficoltà di ogni giorno tra marciapiedi senza rampe, radici prominenti e dislivelli eccessivi. Oggi i ragazzi del liceo scientifico Gallio di Pescara sono diventate sentinelle della civiltà e ora faremo questo esperimento, questa esperienza empatica in carrozzina, per dimostrare che cosa? Che la disabilità non è una malattia ma una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, quindi è l'ambiente a creare disabilità, non altro. E quindi i ragazzi immediatamente proveranno, toccheranno con mano il significato di un gradino di 5 cm, un muro, una salita e praticamente tutto ciò che tende a imprigionare la persona disabile. Noi siamo nelle scuole, ci siamo apposta, questo progetto meraviglioso che abbiamo scritto e lo stiamo portando in tutte le scuole, non solo da Abruzzo, ci viene richiesto veramente da tutta Italia, è un progetto meraviglioso pedagogico che prende in considerazione proprio un fatto molto semplice, che se ci pensiamo bene siamo tutti disabili, perché lo siamo perché non siamo in grado tutti di fare qualcosa e quindi nel nostro piccolo lo siamo davvero tutti e questo è importante perché così poniamo all'attenzione la persona, l'essere umano e non più il problema, perché poi c'è, entra immediatamente il pregiudizio, no? quello che colloca la persona disabile nel diverso. I ragazzi sono stati meravigliosi perché abbiamo già fatto un primo passo con loro in classe e hanno capito perfettamente tutto questo.